La pandemia da Covid-19 e i suoi lockdown hanno modificato profondamente il mondo lavorativo e accelerato alcune delle dinamiche da tempo in atto, come la riduzione degli spazi negli uffici e lo spostamento di parte della forza lavoro in remoto, quello che comunemente in Italia chiamiamo smart working. Queste dinamiche hanno portato a riconsiderare tutta una serie di aspetti dei nostri apparecchi tecnologici, prima relegati quasi nel dimenticatoio. Ci si è accorti che per portare a termine con successo una riunione in teleconferenza non basta avere una buona connessione internet, ma anche i dispositivi audio-video devono essere di qualità. Creative dall'alto della sua esperienza in ambito audio-video aveva già diversi prodotti dedicati a migliorare la vita dei lavoratori da remoto. Abbiamo avuto l'occasione di provare un interessante terzetto composto dai prodotti Creative Livecam Sync 1080p V2, Creative Sound Blaster Play 4, Creative Sound Blaster Jam V2. Partiamo dalla webcam. Molti si sono resi conto come la webcam integrata nella cornice del portatile abbia assunto un'importanza primaria per riuscire a comunicare in modo efficace con colleghi clienti. Spesso le webcam integrate si fermano alle risoluzioni di 720p. Creative Livecam Sync 1080p V2 supporta la risoluzione Full HD a 30 fps, garantendo così immagini più nitide. Rispetto alle webcam integrate è orientabile, in questo modo si può inquadrare bene il soggetto anche se il computer non è esattamente al centro della scrivania, come accade ad esempio nelle postazioni con un monitor secondario. L'angolo di visione di 77 gradi permette di inquadrare bene il soggetto anche se è vicino ma senza quell'effetto fisheye di alcune webcam, anzi riempiendo bene l'inquadratura. Molto utile è il tappino in gomma che permette di coprire la videocamera quando non in uso. La webcam offre diverse possibilità di aggancio tramite clip alla cornice del laptop o del monitor ma anche a un treppiede grazie al foro filettato alla base della clip. Spesso le riunioni video sono inficiate da due problemi, i microfoni aperti anche quando le persone non parlano e il rumore di fondo che copre la voce di chi ha preso la parola. La webcam creative punta a minimizzare entrambi i problemi, con la funzione automute quando si smette di parlare e la cancellazione del rumore di fondo grazie al doppio microfono integrato. Con un prezzo in offerta di 39,99 euro, Creative Livecam Sync 1080p V2 rappresenta una soluzione economica per migliorare in modo netto la qualità delle proprie video riunioni. A livello audio molti preferiscono utilizzare delle cuffie per partecipare alle proprie riunioni. L'offerta creative in questo ambito è ampia ma sono due i prodotti che si segnalano in modo particolare per lo smart working. Sound Blaster Play 4 è una soluzione molto economica, un DAC USB con disattivazione automatica del microfono e cancellazione del rumore a due vie con un prezzo di 29,99 euro. Il dispositivo si può collegare alle porte USB-C del portatile, ma anche a un USB tradizionale tramite l'adattatore presente in confezione. All'altro capo c'è un jack da 3,5 mm per connettere le proprie cuffie preferite. Sound Blaster Play 4 vede la presenza di due pulsanti fisici sulla scocca. Il tasto con l'icona del microfono permette di attivare e disattivare il microfono e la funzione Voice Detect che gestisce l'automute. L'altro pulsante è un equalizzatore con due modalità audio preimpostate e personalizzabili vApp, Dynamic e Bass Boost. Sound Blaster Play 4 è compatibile con PC, Mac, PS4, PS5 e Nintendo Switch, ma anche con smartphone e tablet, Android e iOS. È solo però su Windows che l'esperienza è al massimo livello tramite il software Creative che dà accesso alla personalizzazione di vari parametri. Per chi preferisce l'audio wireless, Creative Sound Blaster Gen V2 possono essere una valida alternativa. Si tratta di un paio di cuffie on ear leggere con padiglioni in spugna. Tra le caratteristiche è la possibilità di connettere contemporaneamente due dispositivi, ad esempio il portatile del cellulare. Mentre si sta seguendo un webinar sul PC è possibile rispondere a una chiamata telefonica senza dover cambiare o togliere le cuffie. Il doppio microfono permette di gestire al meglio la voce riducendo il rumore di fondo, mentre la batteria permette 22 ore di autonomia, molto più di una giornata lavorativa, anche del più incallito staccano vista. Per un'esperienza audio di qualità e priva di ritardi, le cuffie Creative Sound Blaster Gen V2 supportano diversi protocolli ad alta qualità, anche quelli in low latency. Anche in questo caso siamo di fronte a una soluzione che non prosciuga le tasche degli smart worker, con un listino di 39,99 euro in offerta a 34,99.